spona in alto a sinistra di foresta cibernetica cyber forest lui è reynor e parte di pull first boys mentre forse nell'altro angolo dal team stark figlio illegittimo abbiamo johnny neve legge giusto non fa una piega tra l'altro abbiamo una foto qui di dosno abbastanza preoccupato giustamente di giocare contro reynor reynor che tra l'altro ha messo ora si deve mettere gli occhiali per vedere che ha fatto la pulo giallo già anticipato in realtà l'ho già detto che ha fatto la pull io me l'ho perso ero a pensare a quale cazzata dire su josno ci sei riuscito benissimo peraltro quindi bene investire il tempo in cose fruttuose e deve adesso capire josno piano piano cosa vuole fare questo è una partenza che comunque potenzialmente non da troppi problemi alla macro perché sono i primi link a dar fastidio di vedere quante poi ci vuole commentare in questo caso rendersi e spingere per fare altri link 8 10 chi lo sa con sei link cerca di dar fastidio proprio poi si può anche espandere successivamente sono otto link adesso poi prende l'accio quindi tutto regolare deve fare i danni per la casa magari 1 2 droni far perdere money in time abbassare molto la vita del dell'accio e vedere poi cosa succede sarà subito azione in questo primo game best of 3 per mettere subito in chiaro le cose e prendere bene in partenza questo group stage numero 3 ed è fondamentale fondamentale questa serie per il nostro reynor perché vi ricordiamo più che i soldi per lui è una grandissima opportunità per portarsi a casa più punti possibile perché il vero obiettivo di questa season per il nostro reynor è prendersi quel blitz con che lo scorso anno lambo gli ha rubato comprobabilmente con tanta ingiustizia e tanta attenzione john snow va a posizionare alcuni droni va a chiamare le forze del nord per il nord urla john snow ma i link del sud sono cattivissimi e allora guardiamo vediamo ancora non se ne ha portati a casa nemmeno uno però reynor continua ad attaccare reynor continua ad attaccare arrivano altri due link da parte del nostro giocatore arrivano però tanti link anche da parte di john snow ma cadono adesso cadono i droni buon lavoro da parte di reynor si sono caduti i quattro è un po il minimo sindacale per riuscire ad avere avuto un senso questa apertura se comunque difeso con ordine john snow dobbiamo dire perché è così che si fa si aspetta si fa calare la vita del laci chiaramente non può essere perso perché se perdi laci con una cosa del genere non meriti di essere su questi palcoscenici e quindi tutto quanto regolare alla fine si andiamo a vedere le statistiche 16 lavoratori pari 8 contro 9 di armata tutto nella norma gas adesso per reynor arriva il gas per il nostro giocatore che però si riporta subito avanti probabilmente attenzione perché john snow prova ad attaccare ma dall'altra parte reynor è pronto a rinserirsi nella mineral line mentre dall'altra parte però reynor ha già pronte le queen a difendersi c'è la queen anche per gianni neve e quindi reynor se ne torna indietro il game si è standardizzato è una apertura che può essere cioè è aggressiva ma tendenzialmente i giocatori non subiscono troppi danni due queen hanno un dps sufficiente per tenere lontani questi link anche perché la speed per entrambi è piuttosto lontana la speed è piuttosto lontano c'è anche da dire una cosa comunque che il john snow sicuramente non è un gioco un nome molto conosciuto nell'ambito di starcraft ma comunque è riuscito ad arrivare a questo a questo drima che si drima che questo wcs di kiev tramite il challenger quindi comunque ha fatto una buona run nella parte americana anche perché si tratta poi anche un po di capire come funzionano i metagame in america un po diverso rispetto a quello europeo che si ispira un po di più magari alle vocazioni coreane al gioco un po più standard un po più pazzo un po più linnoso l'area americana john snow chiaramente è probabilmente anche questa la sua caratteristica o magari proprio quella difensiva di poter reggere a quello stile di gioco in ogni caso merito a lui di essersi qualificato cosa che tanti altri giocatori non ce l'hanno fatta ma staremo a vedere come decidere di sviluppare il game sicuramente fra i due quello un po più scontento di beccarsi reno è proprio john snow tanto attenzione una differenza nella build perché arriva il bel inneste per il giocatore italiano per il nostro giocatore italiano mentre dall'altra parte arriva un evolution chamber da parte di gianni neve mentre in questo momento arriva la terza base per tutti e due giocatori strana la posizione della terza base da parte di reno si è in posizione a triangolo solitamente solo ling si dice un po più difensiva anche se però tutti questi link per reno sembrano voler manifestare intenzioni aggressive dall'altra parte giorno snow droni più uno al range un classico con con le rocce per lo sviluppo tipico del del match up quantomeno nella fase mid game qua va a cacciare via questo overlord per nascondere ancora di più il link in arrivo dall'altra parte cerca di nascondere i propri di ling john snow ma troverà da questa parte una grossa opposizione qua per subito questi link perfettamente si muove reno in questo caso e torna indietro con tutti i suoi link qua john snow vediamo come aggrederà poi con i bain qua reno si vuola completamente john snow e si vuola si vuola ma deve stare attento deve stare attento perderà una queen ha costretto a cancellare la terza base adesso ma c'è spazio non c'è il wall la barriera la barriera è caduta la barriera è caduta un par di ciuffoli qua si può entrare e si entra con tutti i link la situazione è qua disparata per john snow reno è in totale controllo di questa barriera di tutto questo territorio entrano anche i main ormai in main anche poca vita ormai questo hatch qui può esplodere tutto ma splitta bene qua i suoi droni e le rocce escono a salvare la situazione ma cade l'accio e quando sei tre basi contro uno nello zv z beh direi che la situazione è abbastanza disperata qua per render attenzione per il supply a tante supply in rocci qua john snow se contraattacca cercherà di chiuderla ma dall'altra parte reno già ha messo giù due spine roccione dal suo lato altri dieci link in totale controllo e in totale controllo sicuramente adesso sarà da difendersi dovrà difendersi da quello che sarà inevitabilmente un attacco che deve portare avanti il giocatore del team star che siamo a sei minuti e diciassette ecco che partano adesso le rocce partano le rocce sono un buon numero quelle rocce ancora reno non ha il rocci warren terminato e avrà anche il più uno all'attacco allora sostanzialmente è chiaro che il vantaggio di reno è enorme 52 lavoratori contro 30 però ci sono solamente linghe ma adesso stanno uscendo 12 rocce la vedo molto molto dura infatti questo trono queste queste rocce sono assolutamente solo per difesa dall'altra parte di giusto perché sapeva che senza la speed sarebbe arrivato troppo tardi con questo push e quindi immaginava già una buona difesa da parte di reno e quindi si rimbocca le maniche c'è da remare come un disperato come se fosse controcorrente per riuscire a metter su la sua terza base mentre riprende un po di economia produrre e difendersi ma reno non sembra proprio intenzionato a lasciare il tempo a giusto di respirare si muove già in attacco reno l'italiano che cerca di vincere tutto e avanzano avanzano come un trenino le rocce della parte di reno ancora non mi sembra che abbiano la speed ma sono veramente un numero molto molto importante guardate la differenza di psi guardate la differenza sul numero di lavoratori guardate come cadrà probabilmente quelle rocce warren segnando sostanzialmente la fine del povero giusto che mentre provava a difendersi dall'altra parte sono arrivato un'infinità di lingua sulla base del povero giusto che in questo momento emotional ま Ka 하게 da quanto è tractor e giacca e cartel terza caccia 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 e uno a zero la pittà si figlie grazie sulle rumore sedi di studi xd gp gt 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 gs torte è perfetto c'è da voi pia svitorina okay per ritorno che perfetto cui scuso ok 1 a 0 1 a 0 vediamo aggiornamenti altrove vi ricordiamo il numero sul quale poterci scrivere il vostro finale preferito e desiderato di Trono di Spenno qualcuno ci ha scritto grandi ragazzi ma non si è firmato quindi non sappiamo chi sei ci scrive intanto anche il nostro Carl ci scrive viva i Protos giustamente per rimanere e salutiamo quando la coerenza deve essere assoluta Carl Siege e Protos è il vostro binomio allora vediamo se sappiamo non sappiamo ancora l'avversario successivo va bene qual è l'avversario successivo vediamo se però dal group stage 2 ancora Cass e Namshar sembrano non aver terminato la loro sfida stanno ancora 1 a 1 praticamente da ore quindi poi noi dovremmo attendere mentre intanto arriva bello Jon Snow nel covo del re sembra fatta apposta questa partita la tappo dice dovrebbe vincere o perdere adesso guarda se è un gallo che c'è guarda i capelli ridicolo vabbè non è che io sia molto da meno in realtà va bene uguale la truccatrice qua dovrebbe un po' migliorare sì dovrebbe essere più che altro ecco mi sono liberato ah sono libero finalmente sono libero magari passasse un attimo Pamela a sistemarci attenzione attenzione amici sulle mani hands up because we are going into the game in the covo del re ladd edition U2 1 via e nell'angolo in basso a destra la grandissima speranza ormai quasi una certezza di tutta l'Italia dell'esports mondiale dal team gamers origin Red Bull Reynor Dalla casa Stark in alto a sinistra dal freddo gelo del nord lui è Jon Snow ci provo eh cosa che cosa brutta vuoi fare ormai è andata devi prestarci privo no 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 si tiene comunque magari in sottofondo si sente non è che si blocca poi per copyright non si sente nulla non importa comunque comunque cosa sta succedendo beh per adesso niente nel senso che tutti i due giocatori optano per un hatch first quindi nessuna follia nei primi minuti come invece abbiamo visto nel primo game per cui si rispettano adesso i due giocatori e si continuerà si conferma tra l'altro dalla regia che Cass e Namsha non hanno ancora terminato il terzo game bravo questo Cass comunque si si ma lui ha giocato è forte e Namsha è un altro che invece adora comunque i late game per cui non mi sorprende più di tanto vederli scozzare così duramente fra l'altro pagheranno anche in termini di freschezza sicuramente eh scusa te l'avevo anche detto eh certo esatto perfetto ehm dicevo che si pagherà in termini di stanchezza comunque un game così lungo una serie così ehm complicata quindi anche se vinci poi rimettersi a combattere subito dopo potrebbe essere complicato per chi vincerà fra Cass e Namsha un minuto e 55 in questo secondo game qui tra Reynor e Jon Snow vedremo quello che accadrà entrambi i giocatori hanno optato in questo caso per una build molto molto classica però arriva infatti qualche link in più per il giocatore italiano probabilmente sa di essere più forte in qualche modo del suo avversario vuole tenerlo sotto pressione vuole metterlo in difficoltà probabilmente più da un punto di vista psicologico che da quello che può essere il danno sostanzialmente che possano fare sailing oltretutto in una mappa così ampia si diciamo che sappiamo qua la specialità di Reynor è la velocità di esecuzione quello che riesce a essere sempre presente sulla mappa costante macro comunque solida che cresce sempre di più ma poi attivissimo su tutti i fronti credo voglia anche testare proprio il multitasking di Jon Snow in questo caso per tenerlo sempre preoccupato fargli perdere quell'inject qua perdere dei secondi dall'altra parte della produzione di unità sbagliate piuttosto che altre e questo poi ti dà quel vantaggio che ti rende la partita più facile se tutto va come i tuoi piani e attenzione però perché le build sostanzialmente sono molto simili anche se con timing diversi anche Jon Snow ha deciso di far passare quei link molto molto larghi adesso si incontreranno tra l'altro tra di sé bravissimo il giocatore buon anni con i singoli link spostati da Reynor però alla fine ha nettamente la meglio Jon Snow che dice tu non sai niente Reynor io so micrare tanto bene quanto te e quindi adesso in lieve svantaggio Reynor dal punto di vista dell'armata anche se poi i numeri parlano chiaro 12 a 8 la macro di Reynor si fa sentire io credo che abbia visto quel ben l'innest il giocatore italiano nonostante questo se ne disinteressa completamente te fai il ben l'innest e io parto con 12 link infiniti tra l'altro posiziona anche un roccio Warren quindi Reynor è per chiudere questa storia in tempi molto molto brevi Jon Snow lo sa ha visto passare link con i suoi overlock quindi dovrà non può saperlo non può saperlo l'ho visto l'ho visto quindi deve saperlo deve anche quindi architettare una difesa questa terza fase è complicata da tenere ma dovrà cercare di farlo qua il giocatore in blu qui ci sono anche due Bane serve una micro fantastica nella parte di Reynor che pericolo ma Reynor non ha paura di banaling ha perso due droni perché sta presendo un rambai un rambai natural sempre presente Reynor diciamo quattro droni uccisi così senza colpo ferire è un'ottima notizia per il giocatore in rosso sempre in vantaggio di supply ma la tech parla in favore di Jon Snow perché è difficile sfondare a questo punto per quanto tu possa essere più abile attenzione però perché dall'altra parte ci sono ben sette rocce in produzione lui fa i banaling è convinto di fare il ganso con i banaling ma non sa perché comunque si torna sempre lì Jon Snow non sa niente e arrivano le rocce da parte di Reynor in questo momento 66 si è bloccato però il giocatore del team Gamers Origine attenzione perché potrebbe portarsi a casa di banaling ogni banaling che cade è sicuramente una brutta notizia per il giocatore americano che tra l'altro sta soffrendo anche il jet lagged il jet lagged Kass quindi ha vinto Kass incredibile Kass la regia ci comunica che Kass sarà lo sfidante quindi che Kass ragazzi stiamo a vedere una grandissima giocatore terra quindi altri terra sui nostri schermi stiamo molto contenti di questo bene intanto per la parte di Reynor 61 supply contro 56 si è via via standardizzato serve però in favore di Reynor in generale ma questi Link Bain se Jon Snow decidesse di diventare aggressivo in sostanza potrebbe bloccare dei problemi a Reynor che però si difende con ordine con le sue rocce e altri Link non vuole mollare niente sarà un game sempre attivo su tutta la mappa da parte del giocatore italiano 81 psi per Reynor 66 per Jon Snow in questo momento il vantaggio del nostro Ricky nazionale sta continuando a crescere sempre più vistosamente arriva il più uno all'attacco in questo momento anche con un po' di ritardo probabilmente da parte del giocatore americano che inizia adesso la produzione di rocce ma è troppo indietro sulla macro deve inventarsi qualcosa dovrebbe riuscire a fare un po' di danni mentre sta arrivando adesso l'attacco di Reynor ci sono un numero indefinibile di baneling ci sono un numero indefinibile di rocce anche se basta neggere in alto a sinistra attenzione ai Link potenzialmente letale è questo un attacco che deve fare tanti alla parte di Reynor perché dal punto di vista di Droni ha avuto un leggero ritardo quindi deve portare a casa quei tanti Bain ce la fa quasi con tutti i suoi Bain da quel punto di vista Reynor cerca di sfondare non è benissimo ma riesce a prendere posizione su questa terza base quindi non può più essere ben difesa da parte di Droni e quindi Pianlo Pianlo droppa in supply e soprattutto in Droni adesso c'è avanti Reynor 50 contro 41 leggero svantaggio di unità ma questa terza base sembra condannata e infatti ormai è costretto a sacrificare la sua terza base Jon Snow fa una scelta strategica fa una scelta tattica prova a chiamare qualche rinforzo che arriva dal nord ma potrebbe non essere sufficiente guardate lo psi come parla chiaro arriva in Gigi Gigi good game effettivamente lo è stato grazie a tutti